Una donna di 29 anni è stata trasportata ad urgenza all'ospedale Santa Maria di Terni la causa di un grave trauma al polso sinistro. La paziente aveva riportato importanti lesioni vascolari, nervose e tendine. È stata sottoposta ad un delicatissimo intervento di microchirurgia ricostruttiva da parte dell'equip di chirurgia della mano, composta dal dottor Giuseppe Mosillo, dall'anestesista Alessio Maccaglia e dagli infermieri Luca Vescovi e Massimiliano Conti. L'intervento eseguito in urgenza e durato circa 6 ore ha riguardato la riparazione microchirurgica delle arterie lesionate e del nervo mediano, oltre la sutura di tutti i tendini flessori che erano stati danneggiati. Al termine dell'intervento la mano è stata rivascolarizzata con successo e tutte le strutture lesionate hanno ripreso le proprie funzioni. Dopo un'adegenza di qualche giorno la paziente è stata dimessa e gode di buona salute. Questo intervento rappresenta un successo per l'equip di chirurgia della mano dell'ospedale Santa Maria di Terni e dimostra la loro alta specializzazione in questo campo.